Restano avversari politici ma li comprendo, si sono fatti votare su qualcosa che Bitonci, arrivato da Cittadella, ha poi tradito. E così, a dieci giorni dalla notte della caduta, il patto del Nazareno padovano sembra saltare. Lo strappo dei forzisti rimane un episodio isolato e i dem di Padova si allontanano di fatto dagli azzurri, chiudendo lo spiraglio di un'alleanza con i moderati di centro-destra. Io so che due colleghi che appartenevano al gruppo di Forza Italia, fra cui il capogruppo, hanno fatto una scelta, secondo me prendendo atto che il sindaco ha fatto errori gravissimi e ha tradito il programma elettorale. Mentre al Pedrocchi i fedelissimi del sindaco caduto ribadiscono la propria fedeltà a Bitonci, il PD li etichetta così. Questo è il passato signori, adesso si guarda avanti, litighino in una stanza, non ci infastidiscano più, credo sappiano tutti la distima, la non stima che Zaia aveva di Bitonci. È in corso un finto giochino di effusioni fra fratelli e coltelli che è scoperto da Lega in Frantumi e secondo me sa cosa le dico, Zaia si auspica pure che Bitonci si ricandidi perché perda la città ed eliminare un nemico interno. Anche qua, sono fai delle ghiste che non ci interessano. Prima i podovani lo diciamo noi, avanti tutta con una visione nuova di città. Da Bettin poi un appello al commissario a pochi giorni dal maxi vertice sull'ospedale proprio con il governatore Luca Zaia, di fatto chiede un referendum. Non si fa un'opera frettolosa che secondo noi poi non si farà perché mancano i fondi, manca la volontà politica, frettolosamente con il rischio che sia una mangiatoia senza consultare i podovani.